Il problema è proprio il trasferimento fatto così in una situazione non idonea, inadeguata. Da oggi il centro di salute mentale di Sulmona non è ubicato più in Viale Mazzini. E' avvenuto infatti il trasferimento nei locali dell'ex Croce Rossa nella zona artigianale commerciale di Via Lamaccio, dove il personale ha preso servizio mentre sono ancora in corso i lavori in quel che viene definito lo scatolone giallo dal segretario aziendale CISA all'FPC Massimo Tardio perché i locali... Non sono idonei, non sono secondo me neanche con l'autorizzazione necessaria, essendo comunque fatti per altre finalità, anche se stanno facendo dei lavori ad adeguamento e non possono essere adeguati. Comunque è una soluzione temporanea perché il Comune ne ha bisogno per le scuole o per altre finalità economico-finanziari di come ha avuto i finanziamenti e comunque non è neanche intelligente dare una soluzione ai problemi dei nostri pazienti che hanno già problemi nella famiglia, nella società di inserimento, metterli ai margini della società. Massimo Tardio parla di mancanza di correttezza da parte dell'ASL in quanto la comunicazione del trasferimento non è avvenuta, detto con un atto ufficiale scritto, ma solo verbale. Solo oggi all'ingresso dell'ex sede è stato apposto il cartello con su scritto che il CSM si è trasferito presso l'ex Croce Rossa dietro il borgo nell'edificio giallo e chiamandolo 0864 31079 viene attivato il trasferimento di chiamata. Quella dell'ex Croce Rossa è una situazione temporanea per soli sei mesi, come previsto dalla convenzione tra ASL e Comune, ma tardio in una conferenza stampa nella sede del Tribunale per i diritti del malato ha detto a chiare lettere che è una situazione da schifo, ci attendiamo, ha proseguito una soluzione prima dei sei mesi. Da anni stiamo attendendo una soluzione definitiva perché la soluzione di via Le Mazzini era già una soluzione temporanea, stavamo sotto una pratica di sfratto, quindi comunque dobbiamo andare via, ci stavano le condizioni igieniche e strutturali non adeguate e quindi da anni chiedevamo trasferimenti. Questa ipotesi anche dei sei mesi è solo determinata dalla contingente di una visita dei NAS che hanno certificato l'inadeguatezza di quella struttura. Però allo stato attuale, i NAS sono venuti a gennaio, passati dieci mesi, noi stiamo ancora alla ricerca di soluzioni e secondo me, come sindacato, l'azienda come se non volesse trovare una soluzione idonea. I costi per la ASL in questi sei mesi temporanei saranno di 3.000 euro mensili per l'affitto e di 1.000 euro per il trasporto. Chiederemo l'attivazione del servizio di vigilanza alla luce di fatti di cronaca che hanno interessato altre località. Quella in questione è una zona non illuminata ed isolata. Pretendiamo sicurezza, ha aggiunto Massimo Tardio, secondo il quale in questo modo viene dato uno schiaffo alle problematiche psichiatriche che invece necessiterebbero di maggiore attenzione in considerazione che il centro assiste 1.200 utenti l'anno. Si registra in tal senso un aumento dei TSO passati dai 13 ai 25 in un anno con una diminuzione però delle prestazioni.